Il vulcano Piton de la Fournaise sull'isola francese La Réunion si è risvegliato per la seconda volta quest'anno, suscitando sorpresa nei 250 abitanti e turisti che si trovavano nelle vicinanze. L'evento è subito diventato per i visitatori uno spettacolo da immortalare, mentre dalla cima scendeva un fiume di lava spesso fino a 30 metri. Il vulcano è uno dei più attivi al mondo, assieme all'Etna e al Kilauea delle Hawaii. L'eruzione non ha causato particolari problemi, ma le autorità hanno chiuso alcuni dei sentieri più vicini per i rischi collegati ai gas sprigionati e alle alte temperature.